Musica Eccoci, seconda edizione del nostro telegiornale, ben trovati. Dunque, come dicevamo durante l'anteprima, da ieri sera un 28enne si trova appollaiato da oltre 30 metri di altezza sulla gru del cantiere per la costruzione della metropolitana a Mister Bianco, alle porte di Catania, bani sino a questo momento i tentativi dei parenti, dei carabinieri, ma anche dei vigili del fuoco per farlo scendere da quella posizione. Vediamo insieme. Non sarebbe un ladro, ma un disoccupato disperato, il giovane che da ieri sera staziona su una gru del cantiere della metropolitana a Mister Bianco, a 30 metri di altezza, nel tentativo di nascondersi dopo un'accesa discussione avuta con il padre. E' quanto ricostruito dai carabinieri della tenenza di Mister Bianco che, nel piazzale dell'ipermercato metro in corso Carlo Marx, impiegano uomini e mezzi per convincere Vito Chinnici, 28 anni, a scendere dalla gru. I parenti implorano il giovane e gli chiedono di desistere, appelli che sin qui sono rimasti inascoltati. Sul posto sono intervenute anche i vigili del fuoco del comando provinciale di Catania e del nucleo spelo e alpino fluviale, che hanno tentato in tutti i modi di avvicinarsi a Chinnici, che è salito sulla gru dopo aver aggredito con una spranga di ferro un addetto alla sicurezza dell'ipermercato metro, che lo aveva scambiato per un ladro. Il vigilante, se soccorso e ricoverato in ospedale, ha riportato un trauma cranico e 15 giorni di prognosi. Inutili, fino a questo momento, dicevamo, i tentativi per farlo scendere. E' incomiabile un militare dell'arma, utilizzato come negoziatore che ha tenuto i contatti con l'uomo padre di due figli, ma che si è sempre dovuto fermare al fine di non infastidire il Chinnici. Più volte i pompieri hanno tentato di raggiungerlo con le autoscale, ma anche in questo caso senza fortuna. Rimaniamo in cronaca, ma cambiamo argomento, spostiamoci a Messina, dove sono stati arrestati due corrieri agli imbarcaderi sullo stretto. Vediamo. Non è servito ad ingannare Sara i dendi, i due 007 a quattro zampe, tutto il profumo spruzzato sulle confezioni di cellofan. I due cani antidroga, subito attirati dall'odore dello stupefacente trasportato all'interno dei bagagli, sono andati fino in fondo e non hanno fallito. Anche questa volta. Sono stati così arrestati dei militari della Guardia di Finanza del Comando Provinciale di Messina, due corrieri della droga, un uomo e una donna di origine africana. Oltre sei chili di marijuana sono stati sequestrati. Il blitz è scattato agli imbarcaderi dei traghetti che collegano l'isola con la Calabria. La droga era trasportata all'interno di due bagagli di passeggeri in transito, nascosta in sei involucri sigillati con nastro da imballaggio e imbevuti di profumo nel tentativo di sfuggire a un eventuale controllo dei cani antidroga. I due pullman provenivano dal nord Italia. A Siracusa in azione invece il cane antidroga primo. Le fiamme gialle hanno arrestato un giovane pusher di 24 anni che aveva tentato di disfarsi dello stupefacente gettandolo dalla finestra. 110 grammi di hashish suddivisa in 42 dosi. E adesso due notizie brevi. Iniziamo dalla Guardia di Finanza di Catania. I militari del Comando Provinciale hanno sottoposto a sequestro nella zona industriale di Mr. Bianco oltre 4,6 milioni di articoli contraffatti, riportanti mendaci, indicazioni sull'origine e non a norma. I locali commerciali e il deposito di un'azienda sono gestiti da uno soggetto di etnia cinese che rifornisce all'ingrosso diversi operatori della provincia etnea. Tra gli articoli e gli accessori di abbigliamento che le fiamme gialle hanno sequestrato vi sono cappelli, borse, poscette, cinture riproducenti, marchi e loghi contraffatti. Nonché altri prodotti di vestiario che sebbene di origine asiatica riportavano in maniera illegale la dicitura Made in Italy. Invece la Polizia Personale del Commissariato di Inesima, assieme ai medici veterinari dell'Asp ha eseguito una serie di servizi mirati nella zona di Ciba, l'Inesima e Montepoa a Catania. In un terreno incolto ubicato nel rione di Montepoa si è accertata la presenza di un maneggio abusivo in cui pascolavano tre cavalli e alcune stalle dove erano stabulati uno puledro, quattro caprini e oltre cinque box in cui si trovavano cani di razza, pitbull. Gli animali, oltre ad essere trovati sprovvisti di microchip, sono stati giudicati in cattive condizioni di salute. Per questi motivi i proprietari sono stati denunciati dall'autorità giudiziaria per il reato di maltrattamento di animali. Inoltre sono stati sanzionati per una serie di infrazioni amministrative per un importo superiore ai 27 mila euro. A Catania, cambio al vertice del reparto operativo del comando provinciale dei Carabinieri. Il tenente colonnello Pier Carmine Sica è il nuovo comandante del reparto operativo provinciale dei Carabinieri di Catania. Questa mattina ha voluto incontrare la stampa per uno saluto di presentazione. Dopo essere stato alla guida della Compagnia di Napoli Stella e avere svolto altri incarichi operativi sempre nella provincia napoletana a proda a Catania. 42 anni, originario del Piemonte, il nuovo comandante del reparto operativo ha già avuto modo di girare per Catania definendo la città frizzante e, dal punto di vista operativo, certamente territorio impegnativo da seguire con costanza e lungimiranza. Il tenente colonnello Sica ha già visitato alcuni ambiti provinciali. Si tratta di un territorio certamente vasto, ha detto, e che offre paesaggi colunari, montuosi, oltre a quelli riveraschi. Come dire, un croggiolo da seguire con la dovuta attenzione, ma anche con la particolarità richiesta da ogni singola comunità, da ogni singola area territoriale. E, in tal senso, il presidio operato dalle compagnie, dalle tenenze e dalle diverse stazioni dei Carabinieri disseminate nel territorio della provincia di Catania, non può che essere garanzia per il cittadino. I Carabinieri della stazione di Acicastello hanno arrestato in Fragranza un 26enne di origini nigeriane, ma residente in provincia di Palermo, perché ritenuto responsabile di violenza e resistenza pubblico ufficiale. Ieri pomeriggio, nei pressi dell'ingresso del supermercato dei Codi Via Nazionale per Catania da Cirale, chiedendo con eccessiva insistenza del denaro ai vari clienti, importunava gli stessi clienti. Invitato più volte a lasciare in pace le persone, ha continuato in perterrito. Sono così stati chiamati i Carabinieri, l'extracomunitario, vedendo i Carabinieri giunti dalla stazione di Acicastello, e fuggito a piedi per le campagne circostanti, generando un lungo inseguimento finito solo a Capomulini, dove i militari coadjuvati dai colleghi del radiomobile di Acireale, dopo una violenta colluttazione, sono riusciti a ammanettarlo. Alcuni degli operanti carabinieri, viene scritto in una nota informativa del comando provinciale dei Carabinieri di Catania, sono rimasti leggermente feriti. Cambiamo decisamente argomento, ci spostiamo in provincia di Enna, più precisamente ad Agira. Vediamo insieme delle immagini, si riferiscono a un presunto miracolo, in quanto la stata di San Filippo, che ricordiamo essere padrono, padrono di Agira, e custodita tra l'altro nella Chiesa Madre, avrebbe palesato una sorta di sudorazione. Non ci sono dichiarazioni in merito da parte del Vescovo di Nicosia, Salvatore Muratore, che anzi ha chiesto ai sacerdoti di mantenere il massimo riservo, né da parte del parroco della Chiesa in questione, ovvero Don Giuseppe la Giusa. Abbiamo visto delle immagini che tra l'altro stanno facendo anche il giro del web, sono ormai diventate virali. Andiamo a Catania, cooperative sociali e comune, da diversi mesi ormai, in alcuni casi 11 mesi, i dipendenti delle cooperative sociali, che prestano servizio per conto delle comune, non hanno ricevuto, non ricevono lo stipendio. Oggi c'è stato un incontro con l'amministrazione comunale, tra sindacati e amministrazione comunale. Vediamo insieme. Confronto serrato tra le cooperative sociali di Catania e l'amministrazione comunale. Si è tenuta stamattina infatti una riunione tra gli amministratori, le cooperative sociali, la CGL e la Funzione Pubblica CGL, rappresentate nello specifico dalla segretaria confederale Rosara Leonardi e dalla segretaria generale Turi Cubito. L'occasione è stata utile per fare il punto sulla situazione delle cooperative sociali, che non hanno ancora ricevuto il corrispettivo economico per i servizi prestati negli ultimi 8 o addirittura 11 ultimi mesi. In questo modo le cooperative rischiano seriamente di chiudere battenti. A tal proposito, l'assessore al bilancio, Roberto Bonaccorsi, ha auspicato l'intervento richiesto al Governo nazionale per rimpinguare le casse comunali e che, qualora questo avvenisse, i tempi comunque non sarebbero particolarmente brevi. Le cooperative sono attualmente in grande difficoltà, non soltanto per gli stipendi da corrispondere, ma anche per il pagamento incombente delle cartelle sattoriali, dalle quali scaturisce anche la regolarità del DURC. Una parte di liquidità, come ha detto lo stesso assessore Bonaccorsi, potrebbe scaturire dall'imminente incasso della tassa sull'Atari, ma al momento non è possibile fare previsioni certe. La situazione resta quindi quanto mai delicata e la prossima settimana è già stato indetto un altro incontro con i rappresentanti delle cooperative e gli assessori alla bilancia e ai servizi sociali del Comune di Catania. A proposito di Comune di Catania, socio unico della partecipata Catania Multiservizi, ebbene, su indicazione del Sindaco Salvo Pogliese, il Comune ha designato i nuovi componenti del Consiglio di Amministrazione, come dicevamo, di Catania Multiservizi. Si tratta dell'Avvocato Giuseppe Marletta, che sarà il Presidente, poi l'Avvocato Francesca Tambasco e il Dottor Antonio Di Giovanni. L'Avvocato Marletta, che finora ha preseduto in regime di prorogazio il Consiglio di Amministrazione di ASEC Trader, segnerà le dimissioni da quest'ultimo incarico. Andiamo ad Acireale, restano nel limbo i 44 lavoratori dell'IPAB Oasi Cristo Re, che sono in retratto con lo stipendio pensato un po' da più di quattro anni. Sulle IPAB è profondo rosso, ammette senza giri di parole la drammatica situazione il deputato regionale dei Cinque Stelle, Angela Foti, presente assieme al Sindaco di Ciliale Stefano Aria, al commissario straordinario dell'ente di beneficenza soppresso, Rodolfo Crisafulli, all'incontro con i lavoratori dell'Oasi Cristo Re, struttura chiusa ormai da mesi e dipendenti in attesa di conoscere il proprio futuro occupazionale sulla paventata legge di riordino. La situazione è ancora in alto mare, nel burascoso oceano, in tempesta dei 44 lavoratori in attesa di stipendi arretrati per 46 mensilità e l'assenza di un piano di reinserimento occupazionale, in considerazione del fatto che si tratta di dipendenti pubblici con diritti maturati e consolidati nel tempo. Impossibile qualunque ipotesi di inserimento nella pianta organica del Comune di Ciliale che precipiterebbe nel limbo del dissesto finanziario con conseguenze nefaste. La partita è politica e si gioca sull'asse Ciliale Palermo con un occhio a Roma. I 5 Stelle hanno Comune e Governo in mano e in Regione una robusta rappresentanza anche se la legge di riassetto spetta al Governo regionale a guida centrodestra ha tenuto a sottolineare la parlamentare accese. Martedì prossimo la deputata Foti sarà a Palermo per impegni istituzionali, occasione per una verifica nelle commissioni e l'incontro già in agenda con il nuovo dirigente Triolo, nominato dal Governatore a capo del gruppo di lavoro sulle IPAB. L'amministrazione comunale chiaramente aspetta di sapere se la procedura di estinzione che è in capo alla Regione andrà avanti oppure sarà respinta e compatibilmente con quello che dice la norma si assumerà le sue responsabilità. Per quanto riguarda le possibilità, come dice lei, per i lavoratori di trovare altra collocazione, il Comune sta cercando di fare delle verifiche sulla percorribilità dell'utilizzo di personale che ha i titoli e le qualifiche per l'assistenza ai disabili, di vedere, di trovare una collocazione temporanea anziché esternalizzare con una mobilità, cosa che già è avvenuta con alcuni dipendenti che stanno lavorando nelle ASP piuttosto che in altre IPAB, quindi una mobilità tra dipendenti pubblici chiaramente temporanea. La situazione è veramente drammatica, questo è uno degli scenari, dei quadri più sconcertanti della nostra Regione. Abbiamo dei dipendenti a tutti gli effetti pubblici che non godono di nessuno dei diritti di un dipendente pubblico che non ricevono neppure risposte, lo stesso commissario diceva prima di avere il proprio decreto di nomina scaduto all'autunno del 2017 e praticamente di non riuscire ad avere risposte neppure lui dall'assessorato. Una situazione allucinante di cui il governo musumeci evidentemente intende continuare ad avere questo atteggiamento. Torneremo ad Acireale, tra qualche istante per il momento ci spostiamo a Giare dove si è riunito questa mattina il Consiglio della Società per la Regolamentazione del Servizio di Gestione dei Rifiuti, meglio conosciuta come SRR, formata dai sindaci del Comprensorio. Rinnovati i vertici della Società a Regolamentazione dei Rifiuti con i 14 comuni del Catanese che si sono incontrati a Giare per eleggere i nuovi componenti del CDA. La Società a Regolamentazione dei Rifiuti nasce dopo la soppressione degli Ato ed è il nuovo soggetto che gestisce in via esclusiva il ciclo integrato dei rifiuti nell'ambito di riferimento e quindi con un'ampia capacità di programmazione tutto quanto attiene la rimozione dei rifiuti con annessi e connessi. Il più votato dei rappresentanti è stato il sindaco di riposto Enzo Caragliano che ha ottenuto il 29% dei voti seguito dal sindaco di Pietremonte Tneo Ignazio Puglisi al 27% il quale fra l'altro era sponsorizzato dal vicepresidente uscente il sindaco di Giarre e da quello di Acireale Stefanali col 22%. Quarto non eletto è il sindaco di Adrano. È un ampio riconoscimento per Enzo Caragliano, riconfermato sindaco di riposto, per il lavoro svolto a favore della raccolta differenziata in città che sta diventando sempre più un punto di riferimento per tutto l'Interland. Quello che invece stupisce è rimanere fuori dal rappresentante del comune di Giarre tra i più importanti dei 14 comuni rappresentati alle prese però con un grosso problema relativamente alla raccolta dei rifiuti. I tre rappresentanti più votati si riuniranno per eleggere il presidente e il vicepresidente e dare così concretezza operativa all'ora in carico. Fra l'altro si prevede che il presidente possa essere eletto nella persona di Enzo Caragliano. A proposito di rifiuti da Giarre ad Aci Sant'Antonio, polemica continua per l'isola ecologica. Oggi sentiamo l'ex sindaco Pippo Cutuli. Botta in risposta al vetriolo tra l'ex sindaco di Aci Sant'Antonio Pippo Cutuli ed il consigliere comunale di maggioranza Michele Quattrocchi. Quest'ultimo nei giorni scorsi intervenendo sulla questione isola ecologica aveva chiesto che si facesse chiarezza sulle modalità di apertura, era l'aprile del 2013, dal centro di raccolta di via Sant'Onofrio più che sulle motivazioni della chiusura. La struttura ha infatti asserrato i cancelli da quasi tre settimane e il disagio per l'intera comunità continua. Oggi replica colui che all'epoca governava la città. Le accuse mosse, dice Pippo Cutuli, sono infondate e le respingiamo al mittente. Si tratta delle affermazioni del tutto gratuite che respingiamo al mittente e che gira e rigira alla fine la responsabilità della chiusura di quest'isola ecologica e dell'amministrazione Cutuli. Come qualche sprovveduto l'altro giorno ha rilasciato un'intervista. Sprovveduto perché credo che sia lontane da quelli che sono stati i criteri di apertura di questa isola ecologica. E devo dire che quando io ho aperto l'isola ecologica che è stata nell'aprile del 2013, io l'ho aperta in regime di ordinanza urgente ed indifferibile e c'erano tutti i visti di competenza dei vari uffici comunali e anche dell'ASP. Se poi nel corso di questi cinque anni questi signori di questa amministrazione hanno dormito e non hanno provveduto ad adempiere ad alcune certificazioni che naturalmente nella scadenza e nelle more dell'ordinanza necessitavano approntare, non credo che possa essere responsabilità dell'amministrazione Cutuli. Io credo che è una classe politica sprovveduta perché mi accorgo che non solo non sa creare ma non sa neanche garantire quello che la passata amministrazione gli aveva lasciata. Io credo che sono stati commessi diversi errori da questa amministrazione, specie che per due anni non ha pagato la senese, tant'è che ha fatto un provvedimento di chiusura perché non ha messo più personale a sua disposizione e quindi credo che ci troviamo dinanzi ad un debito fuori bilancio di 75 mila euro e credo che dobbiamo certificarne chi ha colpi e responsabilità. E credo che io l'avevo gestito in regime in house, la gestivo tramite personale interno e la gestivo mediante determinate risorse che avevano il figlio. Questi hanno voluto esternalizzarla cercando altro personale e alla fine credo che le conseguenze sono queste qua. Io credo che adesso sono venute fuori alcune direttive da parte della regione siciliana e necessita qualche provvedimento qualche certificazione che credo se avessero avuto il buon senso anche di attestarne quella che è la continuità che questa isola ecologica ha dato in questi anni, potevano benissimo adempierlo prima. Questa è nata, anche per ricordare qualche sprovveduto, che è nata come isola ecologica. Poi nel tempo l'assessorato regionale ha cambiato un po' la normativa facendolo diventare centro di raccolta per tutte. Ma io ripeto che per questa isola ecologica che ho aperto nell'ontano 2013 a distanze di due mesi dalla nostra fine legislatura sono stato anche denunciato penalmente. È stata passata a setaccio in tutti i sensi perché qualcuno aveva denunciato non so quale nefandezze l'amministrazione Codula avesse fatto. E questo sappiamo da dove è arrivata questa denuncia e sappiamo che la autorità giudiziaria ha fatto la sua indagine e non ha trovato nulla. Quindi vorrei rispondere a qualcuno che trattasi di un'isola ecologica che aveva tutti i criteri e tutti i crisma per poter essere legale, per poter essere attiva e per dare un servizio a tutta la collettività. Perché era questo lo spirito con cui si era realizzata nel più breve tempo possibile un'isola ecologica. Dicevamo poco fa di Iaci Reale, torniamo dunque nella città del Barocco perché ci sono buone nuove per i GAL, il gruppo di azione locale. Via Libera al GAL, gruppo azione locale, a Cireale Comune Capofila con il 47% degli 8 milioni stanziati nel fondo dedicato da assegnare in progetti pubblici e privati con le municipalità a parte, le Raci Bonaccorsi, Aci Sant'Antonio, Aci Catena e Valverde. Interventi nel comparto dell'agricoltura con bandi aperti a tutti i soggetti interessanti e finanziamenti specifici per la riqualificazione dei borghi, Capo Mulini, Santa Caterina, Le Chiazzette della Timpa e in collaborazione con il Comune di Eci Catena, l'antica via dei Mulini, sottolinea il sindaco di Aci Reale, Stefano Ali. Due le misure previste. La prima interessa le aree mercatari da rivalutare, come la pescheria con l'istituzione di zona del gusto e autobus turistici scoperti. Il secondo step invece riguarda la costituzione di spazi comuni in cui i giovani avranno un ruolo da protagonisti, la digitalizzazione dell'archivio storico e l'efficientamento energetico dei palazzi municipali nella fattispecie coibentazione di porte e finestre nel GAL delle Aci, previsti fondi per l'ottimizzazione statica degli istituti scolastici comunali, impegno economico di cui lo Stato si è sottratto e non concede più deroga ai sindaci. Presentando delle manifestazioni di interesse ha delle opportunità di finanziamento proposte sempre dal GAL. Ci sono due linee di intervento diverse. Una su cui vogliamo puntare sulla via dei Mulini, quindi realizzare assieme a Cicatena anche la riqualificazione della via dei Mulini, degli interventi sulle chiazzette e degli interventi legati a botteghe del gusto che potrebbero essere realizzate. Queste ancora sono in via di divenire. Quella dei Mulini vorremmo partire proprio subito e arrivare entro dicembre già al bando. Poi c'è un'altra misura che è arrivata successivamente in questi giorni è stata approvata che ci permetterà di... Questo ancora non è chiaro come operare i vari comuni, però potremmo partecipare a un bando per la realizzazione delle aule di studio, degli spazi di co-working, chiamiamoli, dove la gente possa sia lavorare sia studiare e quindi il comune mette a disposizione questi spazi per poter operare assieme. Poi c'è un bando legato alla possibilità di digitalizzare l'archivio storico del comune 10 Reale, quindi noi abbiamo questo patrimonio ricchissimo. Oggi ho visto che abbiamo anche l'archivio notarile che viene in questo momento lasciato, abbandonato e invece è patrimonio. Qualsiasi altra città lo renderebbe fruibile. E poi degli interventi sia di efficientamento energetico, quindi infissi, roba di questo tipo, e degli interventi per avere il certificato di agibilità statica delle scuole, che è un tema per noi molto importante. Questo in un panorama del comune 10 Reale che non è sempre rosa e fiori. Ogni anno arrivano queste notizie positive. Ieri è arrivata una notizia negativa perché è venuta la responsabile del protocollo e mi ha detto che Post Italiana ci ha sospeso l'invio della posta perché siamo in arretrato con i pagamenti e quindi ci ha bloccato l'invio della posta. Speriamo di risolverlo più presto, questo problema. 6 milioni di euro e mezzo ai comuni siciliani per la gestione degli asili nido. Lo prevede un bando predisposto dall'assessorato regionale della famiglia di prossima pubblicazione sulla Gazzetta regionale ufficiale. Una misura è stata evidenziata dalla Regione. A favore delle famiglie, le risorse messe a disposizione dei comuni serviranno infatti sia per la riduzione delle rette per i bambini iscritti, sia per l'apertura di nuovi asili oppure ancora per l'implementazione di quelli esistenti. A Catania si insiede il nuovo soprintendente alla soprintendenza etnea. Alla soprintendenza di Catania da qualche giorno si è insediato un nuovo soprintendente catanese. Si tratta della professoressa Rosalba Panvini docente all'Università di Catania commissario anche a Caltanissetta. Tantissimi anni passati tra la docenza e le attività di ricerca nei vari siti siciliani e non solo. La professoressa Panvini ha già guidato le soprintendenze di Siracusa e Ragusa e a Catania vuole instaurare un modello che porti principalmente ad una migliore valorizzazione dei siti monumentali, archeologici, museali, paesaggistici del capoluogo e della provincia. Un importante pezzo di Sicilia che è un vero e proprio scrigno da tramandare al meglio quindi attraverso la promozione dell'immenso patrimonio custodito appunto dalla soprintendenza etnea. Intanto mi sono insediata solo da pochissimi giorni sono felice di essere tornata nella mia città d'origine e spero di mettere a disposizione di tutti quel bagaglio di formazione e di conoscenza che nel corso degli anni ho potuto acquisire. Non è solo Catania che ha un patrimonio inestimabile e tutto il territorio catanese come lo è tutto la Sicilia ognuna con le proprie caratteristiche. Allora così come avevo rilasciato un'intervista che mi è stata fatta nei primi momenti dell'insediamento ho detto mettiamoci tutti insieme facciamo squadra, facciamo rete come si suol dire oggi meglio per promuovere questo patrimonio. Un patrimonio che se non viene fatto conoscere nessuno più può tutelare perché non comprende il valore e l'importanza. Un patrimonio che appartiene a tutti e non nel senso, beh siccome è mio me ne prendo un pezzetto dico me lo porto sotto il braccio appartiene a tutti perché bisogna che tutti nel momento in cui le istituzioni non hanno le risorse economiche tutti insieme di qualunque ordine, grado, culturale possiamo stare a fare squadra per poterlo proteggere, conservarlo e tramandarlo come testimonianza e questo è il nostro compito, il nostro dovere quindi tutelarlo per farlo conoscere ma soprattutto per conservarlo e trasmetterlo alle generazioni future. Anche un percorso che vogliamo dire modifica un attimino quello che è l'approccio culturale verso il bene il bene appunto architettonico eccetera custodito dalle nostre parti. È un approccio che tutti dovrebbero avere io sono dell'idea che bisogna far conoscere quello che abbiamo perché poi tutti siamo i siciliani esterofili ossia andiamo fuori dalla Sicilia per vedere questo o quell'altro sito così come anche le scuole spesso organizzano gite fuori dai confini dell'isola però i nostri studenti spesso non conoscono quello che c'è nell'isola allora bisogna far conoscere prima quello che è il nostro possesso e poi allargare gli orizzonti di conoscenza. Saltando un po' tra le varie competenze ma è vero che la sovrintendenza è quell'ente che dice sempre no, no, no? No, diciamo anche molti sì e diciamo ormai il dire no della sovrintendenza si è diffuso diciamo no quando è necessario poterlo dire ma non per una presa di posizione solo perché noi abbiamo il compito di tutelare se non tuteliamo e quindi non conserviamo bene chiaramente se ci arriva un progetto che vuole mettere a suo quadro un monumento, un complesso anche un quartiere dell'impianto urbanistico ci troviamo a dire no ma non per presa di posizione ma solo perché abbiamo l'obbligo di conservare ma la sovrintendenza dice tanti sì e siccome io ho un po' il polso della situazione e sotto le mie mani passano tanti provvedimenti autorizzatori devo dirle che ne passano tanti provvedimenti in cui c'è il sì, si autorizza Importante novità per quel che riguarda i pagamenti delle prestazioni sanitarie all'ospedale Garibaldi di Catania dal primo ottobre prossimo infatti in un nuovo sistema integrato di riscossione consentirà agli utenti di pagare le prestazioni sanitarie con ricette dematerializzate prenotate presso la stessa struttura sanitaria il pagamento potrà infatti essere eseguito sia nei totem self-service installate nel presidio di Enesima sia attraverso la procedura online attraverso una specifica applicazione accessibile dal sito web aziendale a Santa Maria la Stella la seconda edizione di Arte in Musica successo di pubblico, grandi applausi, standing ovation per l'evento di danza, canto, fitness protagonisti domenica scorsa nella piazza di Santa Maria la Stella frazione 10 Sant'Antonio della seconda edizione dell'Arte in Musica piazza gremita di gente che ha assistito alle esibizioni di cantanti e danzatrici che hanno regalato momenti di grande spettacolo sul palco cantanti emergenti ed affermati che hanno intrattenuto la platea con successi del passato e del presente scroscianti applausi per brani storici ma ancora conosciutissimi come quelli di Little Tony Adriano Celentano, Gianna Nannini, Vasco Rossi ma anche Bianca Azei e Simona Molinari particolarmente apprezzate anche le performance di Zumba con Valentina Di Mauro e la sua scuola di danza orientale della DM Dance e del gruppo Ishtar di Sabrina Arena che con le sue allieve ha creato un'atmosfera da mille e una notte ritme egiziani, arabi e musiche fusion hanno fatto da colonna sonora le danzatrici che si sono alternate con i cantanti in una piacevole serata condotta da Filippo Romeo che per il secondo anno consecutivo ha dato la rivederci alla stagione estiva L'evento è stato organizzato dall'amministrazione Caruso e dal consigliere comunale Michele Quattrocchi Bene, nulla di nuovo dalla redazione dunque termina qui la seconda edizione di Oratg che avete visto sul canale 89 del digitale terrestre in Sicilia di ReTV che avete seguito sulla pagina Facebook sul canale Youtube e sul sito internet della televisione prossimo appuntamento con Oratg domani alle ore 14 grazie per la vostra compagnia ci lasciamo con il meteo L'appuntamento con il meteo le previsioni della giornata di sabato 22 settembre il cielo sarà parzialmente nuvoloso su tutta la Sicilia rischio precipitazioni nell'Agrigentino mari calmi le temperature nell'isola oscilleranno dai 32 gradi di Siracusa ai 14 di Enna a Catania e provincia 31 gradi la massima 23 la minima l'isola oscille 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 l'isola oscille